Shizuka, scendi! C'è no vita! Sto facendo il bagno, non posso! No, non la disturbi. Sono solo venuto a restituirgli i libri che mi ha prestato. E le dica che per me è una grande amica e le auguro tanta, tanta felicità! Ora devo andare, ma la prego! Le dica addio da parte mia! Perché vuole dirmi addio? Va bene così. È giusto. No vita, aspetta! Che ti succede? Dimmelo! Ti ho fatto qualcosa di male? Non voglio parlarne! Sarà meglio per tutti e due se non ci vediamo più, credimi! Perché ti comporti così con me? Voglio saperlo! Parla! No! Ma non so cosa fare! Farei in modo che mi detesti! Oddio! Allora stava parlando seriamente! Al cinema!